... Residenza Covelli, il palazzo d'inverno di papà e mamma. Secondo te, stiamo messi male? No, dimmi tu, stiamo messi molto male? Roberto, è so chic! Oddio, mi fa male la gola. Che sarà? E sarà stato l'air conditioning sul giambo? Mi sento tutto gonfio. Tocca a faccio il bozzetto. Che è, nazisti? No, non è niente, amore. Oddio, eccoci, ho pure un po' di sudarello. Mannaggia, che sarà? Roberto! Mamma! Dai, che ce la fatti in tavola! Bucatini! Fusilli! Aggiudicati! Sorry, Samantha, ci sono i fusilli che aspettano. The Fusils, tieni. Piede sta valigia. Roberto, aspetta, anch'io voglio conoscere la signora Fusilli. Dov'è New York? Altro mondo! Altra mentalità! Metropoli superiore! Io lì ho acquistato una mia dimensione diversa. Certo, a New York viene anche il fusillo. E che uno va a lavorare a New York per mangiare i fusilli? Ma lascialo raccontare in pace. E lasciami raccontare in pace, quanto sei brutta! E in banca? E in banca come te trovi? Ma, mi sto inserendo. C'è una mafia giudica che mette spavento! Hi, ciao a tutti! Ah, lei è Samantha! Samantha! That's my family! Dai, sit down! Bravo! Sei di New York? No, di Pittsburgh. Conosci? Solo la squadra di football. I Pittsburgh Steelers. Seguo il vostro campione sul canale 5. Che sei, fotomodella? Yes. Anche tu? E come no? I giornali se la litigano con quel faccione da cacciotta. Cafone! Sta a scherzare! Sta a scherzare! Tenetevi. Dichiarare il secondo! Pollo con peperoni. Ha giudicato! Ma se li faceranno? E i peperoni sono micidiali, oh? E se poi mi ve l'ho sciolta? Assuzione! Portami la pela! Che mi scioglie il mantecato di mamma. Prosto bene.